Oggi faremo una cosa molto importante per noi ma ormai è diventata una cosa anche importante per voi vero? E certo! Che facciamo? E' importante anche per lui soprattutto perché qua dentro c'è bisogno anche del prosciutto quindi che fanno? E intanto pulimolo, leviamo la codica che cominciamo a fettare lo sentimo com'è. Ma la codica che è la codica perché la gente non lo sa? La cotenna! Questa è la cotenna! C'è solo sui maiali? C'è non tutte le belle ma mica sul vitello mangia la pelle e manca di qui se mangia e se leva! E perché ce l'hanno? Ma la pelle ce l'ha perché non c'è la pelle! Ma no la codica! Allora è meglio averci la codica o la pelle? Se il maiale c'ha la la codica è meglio che c'è la pelle o la codica? Ma è la stessa cosa! E quindi che tocca a fare? Tocca alle valli! E dopo? E dopo la buttare via! E poi? Anzi una volta ci sei facevano i pagioli! E poi che ci sei fatto? Ma con che? Con la codica! La buttare via! E dopo? E dopo mai l'ho prosciutto! E poi? Ma voglio affanculo! Possiamo iniziare! Taglia la codica da di qui e ne giù! In che senso? Ma come l'avevo tagliata? L'avevo tagliata qua su e ne giù! Sì ma come l'avevi a seghetto o a spagnino? Ah che sebbia! L'importante è che iniziare qui! Nooo ma l'avevano cominciare qui! Qua? Sì andrà giù! Così? Mannaggia che risporto! Da di qui andrà giù! E mai da sotto le mani! Tira! Ma che cazzo tiro se non è? Va giù col cordello! Così? Ma tu per tagliare lo avrai andrà giù no? Ma giù dove? Sì va sotto il tavolino! E mangiando mani e mangiando! Ohhhh! 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 Adesso ti dà levare le bollioni! Beh beh beh! De che sanno? De di figa ne sai! Camina! Scemo! Che vuoi! Oh se hai voglia se no ti apri il mare voce! No! Le minaccio! Ah! Ma lei lo taglio! Ma come sarei lo tagliata? Lei è da qui! Di qui? Di qui! Fermate! 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 Ma non mi dici come faccio come faccio! Stronzo cucino! Stronzo cucino! E' possibile tutta la rocaccia e le giappate? Ma perché tu mi dici le coordinate per me? Ma che dico? Mi ha tagliato i strumenti qui no? Magli all'anno? E tu che mangi? Ahhhh! Che mangi? sì! La sorca Magli? Fermate! Ma faccio il mio conno! Ma che cazzo fai? Eh eh! Ehm! Ehm... Avete mai un bel mio troppo di più su! Ma hai capito? Ma como che fa adesso che i tuoi giusto e si che cazzo tagli guardate tu che hai fatto! Chi è? Che è? Ehm! Mannaglio! Ma come tu è? Ma guarda duco! Ma guarda che cazzo tagli eh! Ehm! Allora tanto Magli. Beh va bene scusa eh! Ma che proprio Guarda che cosa avete fatto? Guardate, l'ha fatto tutto così! Tutto storto! Questo è stato pronto! Questo è stato pronto! Porca ma io tu sei uno stronzo che la bagnera dal culo! Pure! Ah! Mi hai fatto tutte scalette! Ma voi l'avete visto mai un Babbo Natale così arrabbiato? Fate vedere un po'? Sì, fate vedere! Tu non l'hai visto mai uno stronzo di questo modo? Eh? Guarda quello che ha fatto! Continuiamo, continuiamo! Ma non taglia questo coltello! Mannaggia! Mannaggia la maglia! Ma non lo faccio! 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 E come c'è scritto il dritto dello storto? E come non lo vedo che taglia? E stai da quella altra parte? E come non lo vedo che taglia? Cos'è? E non lo faccio mai! Mi non gli senti cucini! Porca maia! Ma non mi dite che cazzo dove è nato! Si sa la zucca! Ha fatto una bistecca! E questa è una fiorentina! Cazzito che fiorentina va bene! Vedi che mano leggera che ho? Ah! E te credo! Ok il prosciutto l'ho tagliato io perché sono stato bravissimo! Ma che va? Questa è stata bravo? Mannaggia la scuola! Ma non è stata bravo? Ma non è nato! Vabbè! Allora lo sistemiamo! Calmate! Comunque facciamo gli auguri a Buon Natale a tutti! Auguri e Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! E andate a far cura! Uè!